cioè il fatto che l'interesse di parte è più importante dell'interesse cittadino. C'è uno scritto, un testo che è arrivato stranamente insieme alle opere di Senofonte, personaggio che sarà molto presente nelle nostre conversazioni, non sappiamo perché si trova lì ma insomma ci è arrivato per fortuna, è uno scritto politico violentissimo, sicuramente di parte oligarchica, il quale a un certo punto dice, meno male che Atene non è un'isola, perché se fosse un'isola il sistema politico sarebbe blindato, per fortuna non è un'isola, quindi noi possiamo in caso di sconfitta o di difficoltà aprire le porte al nemico e abbattere la democrazia. Un caso emblematico dell'opzione faziosa, danneggio la città, apro le porte al nemico, pur di togliermi dai piedi l'odiato sistema politico che voglio abbattere. Non ce la faccio con le mie forze e faccio appello al nemico, che poi è sempre sparta naturalmente. Ecco, questa è la mentalità che sta dietro, proprio nel retrocervello potremmo dire, all'azione commessa dai nemici di Alcibiade, decapitare la spedizione, incastrarlo in tribunale e sconfiggerlo. Perché? Perché lui è il personaggio meno adatto a convivere con i clan oligarchici. Prima di procedere però dobbiamo fare una piccola pausa e dire a noi stessi se Alcibiade è il nipote di Pericle, il quale rappresenta un regime sui generis, democrazia solo a parole, come mai i clan oligarchici gli sono contrari? Ma i clan oligarchici non vogliono il potere di uno solo, non vogliono il princeps, vogliono che gli oligarchi abbiano tutto il potere e che l'odiato popolo, come dice l'autore di questo scritto, ricada in schiavitù. Preferiscono un regime, per così dire, conflittuale, collegiale, di un ceto oligarchico che si autopromuove, dirigente, che elimina le garanzie che danno il potere al popolo, magari svuota l'assemblea popolare, ma detestano il capo, perché il capo, princeps o come lo vogliamo chiamare, inevitabilmente si poggia sul consenso della massa popolare. E quindi Alcibiade, ai loro occhi, è uno che rifarà, se gli va bene l'impresa in Sicilia, lo stesso che ha fatto Pericle, lo stesso meccanismo, lo stesso tipo di potere, di combinazione democratico-personale, che Pericle aveva realizzato.